Ciao ragazzi, allora, sono munita di forbicine perché devo aprire un super mega paccone che mi è appena arrivato, non l'ho ancora aperto, quindi sono curiosissima perché non ho visto neanche uno spoiler in giro, insomma, sono stata molto attenta e mi è arrivata, insomma, come avrete letto già dal titolo, non è che una sorpresa, la nuova de Gustavox, eccola qua, vi lascio ovviamente il sito qua sotto, pesa tipo 300.000 kg, è veramente super pesante, non ricevo mai pacchi così pesanti, infatti mi piacciono i pacchi belli cicciottosi, pesantosi, apriamo e vediamo cosa c'è questo mese, dovrebbe essere la box di gennaio, io avevo preso quella di novembre e poi ho saltato quella di dicembre per paura che ci fossero tipo cose di natalizie, robe del genere, tra l'altro non so neanche se poi l'hanno mandata quella di dicembre, anche loro hanno fatto, boh vabbè, insomma, non parliamo di cose di cui non so, apri la de Gustavox e condividi, la c'è scritto sull'etitetta, volevo strappare tutto, eccola qua, de Gustavox di gennaio esattamente, allora qua c'è anche una bella ricetta di pollo alla curcuma, non si sa mai, e qua ci sono le cose che sono contenute all'interno di questa box, sono nove cose, allora intanto guardiamo, qui c'è un volantino, ah un volantino di Parmalat con degli sconti, è un euro di sconto totale per il latte Parmalat, insomma alla fine il latte fresco, io lo bevo il latte fresco e insomma lo utilizzerò, poi c'è questo volantino sulla zuppa soba, eccola qua, che credo sia contenuto all'interno del pacchetto, poi insomma altri volantini, eccetera, eccetera, volantino di caffè, eccetera, eccetera, poi c'è questo cosiddetto spiettante, caspita che scoppietto forte, va bene, andiamo avanti, oh mio dio cosa vedo già, cosa vedo già, la prima cosa che vedo, io ve l'ho già detto l'altra volta, sono super super amante delle patatine, cioè le compro, sto attenta a non comprarne troppe perché cioè veramente per me sono un... così, qui, allora perché questa box praticamente mi manda anche delle novità, novità che saranno inserite presto nei negozi, insomma nei supermercati, e quindi vedo già un sacco di cose buone, e quindi insomma questo è quanto, c'è un bel pacchetto di patatine cric croc, che già sono buonissime le patatine cric croc, al pesto, guardatele, al pesto, mio dio santissimo, devono essere la bontà vera, allora queste sono vendute a 2 euro al pacchetto, la box costa 16 euro, io l'ho pagata 5,99 perché l'ho presa a nome di mia mamma, poi dal prossimo mese farò l'abbonamento, insomma a mio nome, a 16 euro, e queste 3, 2 euro, allora, insomma patatine al pesto ragazzi, cioè le aprirei anche adesso, se fosse per me, ma devo resistere, andiamo avanti, allora, shirataki spaghetti di konjac, di peso forma, eccoli qua, sono, sono, peso forma propone l'alternativa ipocalorica alla pasta, gli shirataki di konjac, il konjac è una pianta usata nella preparazione di spaghetti sottili, detti shirataki, contengono solo 10 calorie per 100 grammi, e sono ricchi di fibre solubili, per non iniziare al piacere della pasta, facile a preparare, rimangono sempre al dente, hanno un gusto neutro, quindi insomma credo che si possano condire con un po' di tutto, e niente, insomma, eccoli qua, questi sono venduti a 3,90 euro, poi c'è una confezione, mio dio gigante, la fa fruttare, cosa c'è qua dentro, c'è pesantissime queste robe, mio dio, allora, scusate eh, se faccio il rumore, io sono una donna munita di robe, scusiamola, la, la, allora, c'è Kikkoman salsa di soia, allora io odio la salsa di soia, ce la detesto, mi fa schifo proprio, però mia mamma piace, insomma, la darò a lei, questa salsa di soia costa 3,69 euro, è una famosa in Giappone come condimento, bla 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 bla, a me non piace per niente, ma per niente, per niente, per niente, per niente, mi piace, vado al ristorante cinese ogni tanto, però la salsa di soia proprio non mi piace, e quindi questa la regaleremo, andiamo avanti appunto, parlando di Parmalat, c'è una confezione di latte con omega 3 e vitamine, Parmalat, venduta a 1,49 euro, e è una confezione normale da un litro, insomma, sì, da un litro, eccola qua, una confezione bella gigante, un'altra confezione di latte Calcium Plus, eccolo qua, questo è venduta a 1,29 euro, e niente, è un altro bel, con l'1% dei last, insomma, un'altra bella confezione di latte, tanto il latte va comprato, insomma, e quindi ci fa piacere riceverlo, poi c'è un buonissimo succo tropicale, è sempre di Parmalat, può darsi? No? Tropicana, perché mi sono inventata che è di Parmalat? Questo qua è un succo tropicale, sì, essential, multivitaminico, c'è anche agli agrumi, c'è anche il succo d'arancia, insomma, bla bla, a me è toccato quello tropicale, avrei preferito quello d'arancia, però non è che non mi piaccia quello tropicale, insomma, quindi berrò volentieri anche questo, è eletto prodotto dell'anno 2015, 100% di succo di frutta, per porzione sono 104 calorie, eccolo qua, insomma, anche questo un bel litrozzo di succo di frutta, insomma, andiamo avanti, e c'è ovviamente, a me piacciono un sacco, una confezione di zuppa sova, insomma, di noodles, chiamiamoli come si chiamano, classico, gusto classico, eccolo qua, quelli da preparare, da aggiungerci l'acqua, insomma, è da preparare in quel modo lì, e questa costa 2,99€, mi piace, questa mi piace un sacco, so che non sono proprio i cibi più sai nel mondo, però ogni tanto, insomma, mi piace concedermene una, e la bevo volentieri. Poi andiamo avanti, drogheria e alimenti, curcuma macinata, eccola qua, io non ho mai provato la curcuma, non so di cosa sappia, non ho idea, non so in che modo si possa usare, ma qua c'è una bella ricettina di pollo alla curcuma, e quindi, insomma, la utilizzeremo, questa è di drogheria alimentare, appunto, e costa 2,99€, insomma, la proveremo, ma alla fine, perché no, una spezia nuova, male non fa. L'ultima cosa che vi faccio vedere è una confezione di caffè, c'era anche l'altra volta una confezione di caffè, però non mi ricordo che caffè era, sarà contenta mia mamma, perché lei è l'amante di, io bevo solo quello in cialda di, dei, caffè? No? Non mi ricordo mai che marca è, va bene, al, al caramello, e quindi, va bene, insomma, non sono un'amante del caffè, lo capirete dal fatto che lo bevo al caramello, questa è caffè verniano, è una lavica 100%, è una bella, una bella, una bella confezione, insomma, sono 200 grammi di caffè, e mi piacciono tantissimo le confezioni fatte così in latta, perché comunque si possono riutilizzare, sono sempre carine, insomma, da utilizzare queste confezioni in latta, per riporre anche le cose, perché poi, vedete, qui c'è il tappo che si può mettere e rimettere, togliere e rimettere, insomma, perché poi qua c'è lo strappetto e niente. Questa costa 4,99€, però c'è un asferisco, sì, la lattina 4,99€, perché c'era la possibilità di trovare anche le cialde, credo, il, sì, le cialdine, sì, cialda e a me hanno mandato quello solubile, e, quello in polvere, e niente, questa era la mia box di, la mia degusta box di gennaio, io sicuramente farò l'abbonamento, perché mi piace un sacco ricevere questa box, alla fine ci sono sempre delle cose interessanti, anche cose nuove che io, sinceramente, non comprerei, anche l'altra volta ho assaggiato due o tre cose che io, sinceramente, non avrei comprato, che però, invece, mi sono piaciute e mi sono sembrate interessanti, insomma, alla fine le ho scoperte grazie a questa box. Io, vi ripeto, vi lascio tutti i link qua sotto, se trovo qualche promozione, ve la metto sempre qua sotto, se la volete provare, magari, se riesco a ritrovare la promozione dei 5,99€, ve la metto qua sotto, perché la prima box la potete prendere a questo prezzo, così magari la provate anche voi, mi fate sapere, insomma, se vi piace, se non vi piace, se l'avete già presa, fatemelo sapere, insomma, nei commenti, vi ricordo di cercarmi su Telegram, se non avete visto il video, andatevi a cercare, mi trovate anche su Telegram, basta cercare Elena Dreamer, e niente, iscrivetevi a Facebook, mettete un pollice in su se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale, e basta, ci vediamo al prossimo video, ciao ragazzi! Grazie a tutti!